Stai ascoltando un podcast? Rizzoli Education! Nobel che ci hanno cambiato la vita 1937, Sir Walter Norman Howard e la vitamina da doppio Nobel Il mondo della scienza è pieno di scoperte corali, nate cioè dall'ingegno di più scienziate. Questa è una di quelle. Alla base di questa scoperta a più voci c'è un mistero che potrebbe essere degno di un thriller. Perché da tempi immemori esploratori e marinai si ammalavano di scorbuto, malattia dei temibili sintomi che conducevano spesso alla morte? Quale maledizione li affliggeva? Le prime e timide risposte a questa titra e misteriosa domanda arrivarono nel 500. All'epoca si attribuì la comparsa della malattia alla mancanza di frutta e verdura fresche. Marinai, esploratori e soldati non seguivano di certo una dieta sana e quindi si ammalavano. Ma cosa c'era di tanto miracolosi in frutta e verdura? Nessuno lo sapeva ancora. Più di 200 anni dopo, il medico scozzese Lint, a bordo di una nave militare, condusse un vero e proprio studio clinico, il primo della storia. Divise i malati di scorbuto in sei gruppi, somministrò a tutti la stessa cura e introdusse nell'alimentazione di ogni gruppo un cibo diverso. Gli uomini a cui aveva assegnato arance e lime, e solo loro, guarirono completamente e con celerità. C'era quindi un rimedio antiscorbuto in questi alimenti e dopo diversi anni la presenza di agrumi sulle navi militari divenne obbligatoria. Per identificare la classe chimica di quella medicina naturalmente presente in alcuni alimenti, ci vollero però più di 150 anni. Nel 1912 il biochimico Casimir Funk capì che diverse malattie erano evitabili, grazie a nutrienti fondamentali per la vita da assumersi con la dieta e coniò il termine vitamine. Il nostro composto doveva sicuramente essere una di loro e infatti pochi anni dopo ebbe finalmente un nome, vitamina C. C'erano però ancora diverse domande non risolte. Come si isolava quella terapeutica vitamina dagli alimenti in cui era contenuta? E chi struttura chimica aveva? Agli inizi degli anni 30 diversi scienziati iniziarono a contendersi l'isolamento della vitamina C in laboratorio. Tra tutti spiccavano lo scienziato ungherese Albert Zent-Georghi e il ricercatore americano Charles Glenn King. Il primo isolò un acido da ghiandole su renali bovine e lo chiamò acido esuronico. Il secondo isolò un acido dal succo di limone e lo chiamò acido ascorbico. Con l'aiuto di un terzo scienziato che faceva spola tra i due laboratori, ci volle poco a capire che si trattava dello stesso acido. Avevano entrambi isolato la vitamina C. La scoperta valse il premio Nobel per la medicina sola Zent-Georghi nel 1937. Nello stesso anno la vitamina C vinse anche il Nobel per la chimica. Ad aggiudicarsi il prestigioso premio fu Sir Walter Norman Howard, un biologo di Londra. Un luminare, uno scienziato di grande fama, fu il chimico dei carboidrati. A 40 anni divenne direttore del dipartimento di chimica dell'Università di Birmingham e qualche anno dopo scrisse The Constitution of Sugars, destinato a diventare uno dei testi più autorevoli sulla chimica degli zuccheri. Howard determinò la struttura di diversi carboidrati, tra cui gli zuccheri, l'amido e la cellulosa. Scoprì che negli zuccheri gli atomi di carbonio si disponevano a formare un anello e ne rappresentò le diverse strutture molecolari, diventate note per l'appunto come formule di Howard. Un giorno nel suo laboratorio di Birmingham lo studioso ricevette un campione di acido ascorbico. A inviarlo era Albert Zent-Georghi, che come sappiamo lo aveva appena isolato. Studiando quel campione, Sir Howard fu capace di grandi intuizioni e di eccellenti scoperte. La prima determinò la struttura molecolare della vitamina C e successivamente, conoscendone bene i costituenti, riuscì perfino a sintetizzarla. Grazie a queste rivelazioni la vitamina C iniziò a essere prodotta artificialmente. Oggi infatti la troviamo nelle formulazioni più disparate, bustine, confetti, caramelle, pasticche. Infine oggi sappiamo che l'acido ascorbico ha un potente effetto antiossidante, cioè è in grado di rallentare o neutralizzare la formazione di radicali dell'ossigeno, molecole instabili che si formano in seguito a reazioni di ossidazione. Grazie a questo meccanismo la vitamina C ci protegge da una condizione definita di stress ossidativo, un meccanismo alla base di diverse patologie. La vitamina C è quindi un acido prezioso che ci protegge e ci mette al riparo da possibili malanni praticamente da sempre. Seguici su Rizzoli Education.it per ascoltare le prossime puntate di I Nobel che ci hanno cambiato la vita. Hai ascoltato un podcast? Rizzoli Education.